Allora Marco, esordio non solo di campionato ma anche casalingo con questa sconfitta 4-3, come la commentiamo? La commentiamo che abbiamo regalato un tempo, almeno il primo tempo non siamo scesi in campo, abbiamo preso tre gol, una squadra come la nostra che fa della difesa la sua arma migliore, tre disattenzioni e tre gol di pregevoli fatture loro, lasciamo di buono soltanto la seconda parte, cioè la reazione sul 3-0 e ci sarà modo e tempo per correggere anche se il campionato è di quelli impegnativi che non ti permette nessun sbaglio, non ti concede tempo quindi dovremo subito concentrarsi per la partita di Sala che ovviamente è una partita difficilissima perché il Sala con Silina è una squadra che punta all'alta classifica quindi dovremo andare a fare la partita della vita ma sicuramente non la partita di oggi. Hai già anticipato un po' quello che accadrà tra due settimane perché ora subito c'è il turno di riposo. Beh sì, quando si perde il turno di riposo non è proprio l'ideale perché si è voglia di riscattarsi subito, ne approfitteremo solo per approfondire determinate situazioni in fase difensiva che oggi non sono andate, ci teniamo però la grande reazione e il cuore dei ragazzi sul 3-0, dobbiamo cercare di non concedere più tanto alle squadre avversarie perché questo campionato non ti ammette errori, che abbiamo visto oggi su 3-4 azioni loro hanno capitalizzato praticamente il 100% delle azioni. Faremo di necessità virtù, cercheremo di lavorare e cercheremo di andare a fare punti a Sala che non sarà semplice. Al di là Marco del loro muro in porta, davvero bravo il portiere, credi che abbiano pesato poi i 5 falli? Sicuramente, il quinto fallo ci ha pesato mentalmente, alla fine credo che il quarto gol sia proprio frutto di una paura di aver commesso fallo, addirittura si sono fermati i miei, si è trovato Meiuto che non è l'ultimo arrivato sul dischetto del rigore, ovviamente non ci ha perdonato, quindi assolutamente sì, concordo con la tua lettura, il quinto fallo è stato un macigno per noi perché poi ne ho giocato tutta la partita pressando e quando pressi sei portato a commettere qualche fallo in più. Chiudiamo con una notizia positiva, è tornato il pubblico e il palazzetto era praticamente pieno. Assolutamente sì, credo che da lunedì aumenterà anche la percentuale, arriverà al 60%, di questi siamo felicissimi, però c'è da dire che siamo dispiaciuti per non aver potuto regalare quantomeno un punto a questo pubblico. Ci rifaremo sicuramente la prossima volta.